Ehi, ciao Giulio, come sei? Beh, dai, che ti ho visto che giornatone? Eh sì, se potrei fare qualcosa. Andiamo a fare un giro in bici? Sì, dai, però come ho voglia fare tanta salita? Eh, vabbè, allora facciamo cabinovia, seggiovia, montagnone alte, Gaza. E rientro a casa. Ci sto. Sì, dai, che ti ho visto. 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 Sì, dai. Sì. 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 Sì.